Sono finalmente iniziati i tanto attessi lavori su Piazza Caduti del Terrorismo, annunciati già tanto tempo fa nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Strategico Bitonto 2020. Come è noto, l'intervento prevede l'allargamento dei marciapiedi dalla parte della Chiesa di Sant'Andrea, andando così a creare una vasta area pedonale che arriverà fino al Sagreto della Parrocchia. Tutta quella parte di piazza che si trova tra la Chiesa di Sant'Andrea e quella di San Valentino sarà attrezzata con un parco giochi, ci sarà anche più verde e un numero ridotto di posti auto. Dopo la piazza, ad essere oggetto di restyling, sarà il Lungolama, in tutto il tratto che, da Porta Robustina, scende all'ex macello comunale, via Castelfidardo, via Solferino e Porta Lamaglia. Tutto è finanziato con fondi nazionali, come spiega il sindaco Michela Baticchio. Sono previsti anche interventi per la Fogna Bianca, la realizzazione di una lunga ciclovia su Via Cela, e altre opere qualificanti su Torrione Angioino e teatro.